Buongiorno a tutti, sono Andrea Gregori, ho 55 anni, sono un infermiere, un sindacalista e mi ritengo un attento osservatore dei fenomeni sociali e politici che riguardano la mia terra ed in modo particolare il nord-est del paese. Ho scritto un libro perché penso di essere un uomo che in questo momento ha visto abbastanza nella propria vita sociale e politica, non tutto sicuramente, ma abbastanza sì. Il messaggio che io voglio sostanzialmente mandare con questa mia opera è un messaggio di attenzione che le cose non sono mai come appaiono, ma vanno verificate in profondità per capirne la vera essenza.